A dell'inquietante l'episodio avvenuto a Cerignola, nei pressi del casello autostradale, la notte fra domenica e lunedì scorsi, intorno alle 2, quando un commando di rapinatori ha saltato un pullman a due piani della linea Marozzi, partito da Taranto e diretto a Roma. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno raccolto le denunce dei passeggeri, studenti e pendolari, terrorizzati e derubati. Ormai siamo al Far West, dichiare in una nota l'onorevole Gianfranco Chiarelli, che ha presentato un'interpellanza per chiedere l'urgente adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e iniziative straordinarie. In via Melfi i quattro banditi hanno bloccato la strada con un SUV e un Audi A6 per bloccare la corsa del bus. Poi si sono divisi, due sono rimasti a terra per sorvegliare il tratto di strada e dare eventualmente l'allarme, mentre i complici sono saliti a bordo del mezzo per fare razzia di portafogli e cellulari. Un piano studiato e organizzato alla perfezione, quello che i malviventi con il botto coperto dalla calzamaglia e armati di fucile hanno portato a termine. Durante la rapina uno dei due conducenti del bus è stato colpito con il calcio del fucile, mentre l'altro è stato minacciato e ha assistito alla scena con la canna puntata verso di lui. I quattro banditi sono fuggiti quando un camionista in arrivo su via Melfi ha lampeggiato per segnalare l'ostruzione della strada per le auto posizionate di traverso. Le indagini sono indirizzate verso gli ambienti della criminalità foggiana e della BAT, dove assalti di questo tipo sono frequenti.